per questi salti degradati intanto vediamo la russa Makarova, volevo veramente un telegramma da parte di Andrea Benvenuti che saluto, ed è il fisioterapista di Carolina Costner sulle condizioni di Carolina Andrea, poi ti lasciamo al tuo lavoro ma direi bene bene, ho visto stamattina l'allenamento senza sbavature atteggiamento mentale? è in gara, è decisamente in gara quindi siamo in trans agonistica insomma sì, direi proprio ci sembra che anche tu sia in trans agonistica no, no, io sto bene senti, cosa prevedi per oggi? ci diceva tanto Franca Bianconi che tu hai già capito quasi tutto del pattinaggio, se distinguere già i salti dire quasi tutto è un po' azzardato però comincio pian pianino a capirci un po' di più quale caratteristica, mentre qui vediamo proprio la Makarova, ti colpisce dei pattinatori, tu che vieni da altissimi livelli dall'atletica leggera a livello proprio atletico? beh, sono molto diversi in realtà nel senso che gli europei d'alto livello e gli asiatici gli americani sono molto diversi da tutto il resto la diversità sta soprattutto in due aspetti uno quello atletico perché la differenza si vede molto specie nei programmi nei liberi quando cominciamo dal punto di vista anche metabolico ad avere risposte importanti perché la durata è alta insomma 4 minuti e 10 per le donne vuol dire avere un dispendio energetico notevole poi mi colpisce molto il fatto che sono diverse le componenti a fare la differenza nonostante insomma l'aspetto tecnico dei salti sia preponderante con i punteggi nuovi però di fatto ci sono alcune atlete che saltano bene ma che hanno una come dire i componenti sono abbastanza povere quindi il punteggio poi ne risente Andrea è stata paragonata anche Paolo Pizzocchi che è calcolato che una gara un free equivale a una gara di 1500 metri come dispendio energetico tuttavia qui c'è una componente artistica devi anche saper sorrire muoverti con il corpo mentre nell'atletica puoi anche scubitare sì la durata è quella anche se le minimole dilattate in realtà prodotte sono molto meno sono in una gara di mezzo fondo veloci chiaramente c'è un dispendio energetico superiore questo consente comunque di avere un'espressione artistica di livello perché altrimenti sarebbe un altro sport sarebbe uno sport di mezzo fondo però ecco il dispendio energetico se vogliamo paragonarlo siamo lì grazie Andrea benvenuti ci vediamo dopo la gara qualsiasi cosa accada e andiamo a vedere Xenia Makarova è la campionessa insieme ad Alena Leonova che ha partecipato alla finale della Grand Prix della Russia del futuro Makarova ha iniziato con una bella combinazione triplo-triplo però poi è caduta nel flip che ha partecipato non è caduta nel flip che ha partecipato che ha partecipato ma che ha partecipato e passare con la pritura del Perù Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il triplo non era pulito, secondo me il secondo è da degradare, però purtroppo già ieri con l'atleta russa abbiamo visto che invece il pannello tecnico si è espresso a favore. Vediamo se le danno questo triplo o meno. Ieri c'era stata la tensione sul doppio flip. Allora andiamo a vedere dopo la Rait-Majerova che cosa dice il pannello tecnico per la Makarova. Ma è un pannello tecnico che appare severo in alcuni casi, meno severo in altri casi. Non riesco a trovare sinceramente un filo conduttore. Mamma, babbocca, dedosca, io ti amo papà, grazie a voi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.